come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità nel video di oggi voglio parlarvi di tre notizie molto interessanti quindi rimanete collegati al video fino alla fine per capire tutto quanto partiamo subitissimo con la prima informazione parliamo di myampal reddito di cittadinanza e puc perché ci sono delle novità a partire dal 9 di giugno gli operatori potranno assegnare udite bene udite bene gli operatori potranno assegnare in autonomia i beneficiari ai puc apre una piccola parentesi non chiedetemi perché proprio nel mese di giugno hanno deciso di fare questa cosa qua quando tipo tre anni che girano queste cose quindi proprio adesso mistero della fede chiusa parentesi comunque gli operatori dei servizi per il lavoro potranno individuare e poi assegnare in in autonomia un beneficiario di reddito di cittadinanza al puc cioè progetto utile alla collettività la persona beneficiaria dovrà avere una domanda di reddito di cittadinanza e un patto per il lavoro entrambi attivi e la novità sarà operativa su myampal a partire da venerdì 9 di giugno quindi diciamo che qualche giorno che attiva questa cosa la modifica questa modifica qui è stata introdotta a seguito della legge di bilancio del 2023 che ha previsto per tutti i beneficiari del reddito di cittadinanza l'obbligo di partecipare ai puc questo vuol dire che il ministero del lavoro e delle politiche sociali non fornirà più la lista dei nominativi prioritari da assegnare ai puc l'operatore quindi potrà procedere direttamente all'assegnazione tramite il servizio gestione reddito di cittadinanza di myampal quindi per capirci i centri per l'impiego avranno più libertà ed un maggior ruolo in un maggior ruolo non so come neanche come definirlo nella ricerca del lavoro questa è la novità all'interno della procedura che porta al coinvolgimento dei percettori nei puc quelle attività utili come vi ho detto alla collettività come per esempio facciamo un esempio le pulizie dei parchi dei giardini le collaborazioni agli uffici pubblici eccetera eccetera svolti presso i comuni cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione in arrivo il nuovo rdc da 500 euro vediamo un po di cosa stiamo parlando questa volta sarà esteso anche ad altre categorie di persone perché ci sono 40 milioni di euro che il governo ha messo in campo vediamo cosa succede e a chi spetta già lo sappiamo con adi a segno di inclusione le famiglie colla all'interno delle persone con disabilità con chi ha più di 60 anni oppure per chi ha dei minori riceveranno 500 euro al mese ma ora si aggiungono anche tutti coloro che sono affetti da disagio bio psico sociale si chiama proprio così disagio bio psico sociale e siccome non sapevo neanche io cosa fosse in realtà perché anche se vabbè più o meno dalla parola posso intenderlo allora cosa ho fatto ho fatto delle ricerche e poi comunque qui sotto nella scheda del video attenzione scheda video non commenti vi lascio poi il collegamento al significato di questo disagio così a chi gli interessa può mandarselo a leggere e capire vi dico già che è un po complicato perché io l'ho visto ma è un po complicatello da interpretare da capire perché usa tutti dei termini molto particolari che vi assicuro che ho fatto fa molta molta fatica ma torniamo a noi in pratica questa categoria di persone era rimasta tagliata fuori dall'assegno di inclusione ma non solo perché erano stati esclusi anche dal sussi diciamo non solo dall'assegno di inclusione erano stati esclusi anche da sf supporto formazione e lavoro cioè praticamente erano stati completamente dimenticati che poi in pratica sfi e quel sussidio che spetta a chi ha tra i 18 e 59 anni ed è occupabile quindi è stato un vero disastro una mancanza generale ecco fortunatamente fortunatamente non so come hanno fatto comunque sa di fatto che il governo se ne è accorto e adesso anche tutti i costoro che sono affetti da questo disagio faranno parte di coloro che potranno ricevere l'assegno di inclusione che partirà dal primo di gennaio 2024 questa conferma ci arriva dal giornale il sole 24 ore e ci scrivono così il governo trova nuove risorse ed è pronto a sbloccare gli ultimi nodi sul decreto lavoro che oggi arriva in aula in senato con una quarantina di milioni si evita il taglio di fondi ai disabili confermando l'estensione del assegno di inclusione la nuova misura che dal 2024 prenderà il posto di rdc ai componenti svantaggiati inseriti in programmi di cura e assistenza quindi udite bene udite bene la soluzione è la rimodulazione quindi il cambio cioè stanno prevedendo di fare un cambio della scala di equivalenza con il ripristino del del valore previsto dal decreto del primo maggio per i minori con disabilità o non autosufficienti pari a 0,5 e poi l'introduzione di un ulteriore incremento di 0,2 punti per ciascun altro componente adulto come detto in condizione di grave disagio bio psico sociale inserito in un programma di cura e assistenza certificati dalla pubblica amministrazione ecco questo era quello che ci ha detto il sole 24 ore quindi in definitiva sembra che il nostro governo sia riuscito a trovare dei nuovi soldi per chi prenderà il nuovo rdc cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione sono partiti i primissimi rimborsi del valore di 50 euro a tutte le persone che avevano richiesto il bonus vista il rimborso spetta a tutti coloro che hanno acquistato a occhiali e lenti a contatto e che hanno un isè sotto i 10 mila euro vi dico questo perché ci sono da tenere a mente ben due scadenze mi raccomando segnatevele sul calendario tanto lo so che 90 per cento di voi ha come la maggior parte di noi ha un calendario in cucina quindi prendetevi nota di queste due scadenze che adesso vi so per dire se no rischiamo di perdere altri soldi quindi ci sono due modi il primo si può primo sistema si può ricevere un buono da usare per avere uno sconto dei 50 euro quando si comprerà un nuovo paio di occhiali o di lenti a contatto per ricevere questo buono c'è tempo per inviare la domanda fino al 31 di dicembre quindi segnatevelo magari per dopo l'estate perché già che poi dopo l'estate le vacanze 1 arriva arriva l'inverno vuole comprare gli occhiali nuovi non ci vede più tanto e di qua di là quindi segnatevelo magari per settembre ottobre ecco di non arrivare proprio a dicembre dicembre magari se volete farvi un regalo di natale vi cambiate gli occhiali ecco però mi raccomando segnatevi questa scadenza e ricordatevi che questo buono sarà da spendere entro 30 giorni dall'emissione presso tutti gli esercizi commerciali che sono elencati all'interno del sito internet bonus vista quindi voi potete fare così inserite la fate la richiesta per ricevere il buono da 50 euro poi vi andate a cercare un 11 un ottico si non stavo per dire oculista a cercare un ottico vicino nella vostra zona dove abitate e andate in quello più che vi viene più comodo ecco il secondo sistema invece è che si può richiedere un rimborso attenzione nel primo caso si chiede un buono quindi vi danno 50 euro nel secondo caso invece potete richiedere un rimborso di 50 euro sulle spese che avete pagato dal primo di gennaio 2021 al 4 di maggio 2023 quindi in questo caso prima dovete aver speso i soldi e poi dovete chiedere il rimborso quando fate farete la richiesta per chiedere il rimborso sicuramente vi chiederanno i dati della fattura ovviamente non è che vi rimborsano così sulla parola perché siamo belli e simpatici ecco quindi molto importante avere copia della fattura in questo caso però attenzione che il rimborso può essere richiesto solo fino al 3 di luglio quindi se avete comprato degli occhiali nel periodo come vi ho detto prima dal primo gennaio 2021 fino al 4 di maggio 2023 mi raccomando andate subito a fare richiesta per il rimborso di 50 euro la scadenza come vi ho detto è il 3 di luglio se non siete tanto capaci a usare internet con lo speed cinchicciuc piuttosto fatevi aiutare da un caff o da un professionista che sicuramente sapranno aiutare nell'inserimento della richiesta per chiedere indietro questi soldi quindi anche qua mi raccomando non perdiamo anche questi 50 euro bene con questo è tutto io vi ringrazio per averne guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre e solo sull'unico canale originale di youtube il mio quello che vi fa i conti in tasca a presto ciao